E a Barletta è nata una rete di volontari che aiutano la distribuzione di beni di prima necessità. Il servizio di Angela Zicolella. A Barletta le associazioni di volontariato fanno rete per occuparsi e gestire la distribuzione alimentare ai cittadini in difficoltà. Si chiama Rete di Volontariato Covid-19, nata tra le associazioni che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato alla raccolta, stoccaggio e distribuzione di genere alimentari e beni di prima necessità. Ad usufruire della distribuzione saranno a partire da giovedì 9 aprile persone anziane, persone disabili, persone che vivono in situazioni di fragilità e che vivono in attuali difficoltà economiche. I cittadini possono rivolgersi ai numeri della Segreteria Sociale per l'analisi della domanda e l'eventuale inserimento nella lista dei richiedenti e beneficiari. Dottor Covascia, il Comune di Barletta ha organizzato una rete di distribuzione alimentare. Come funziona? Quali sono le associazioni che hanno aderito? Le associazioni che hanno aderito a questa rete, soprattutto le associazioni presenti sul territorio, è stato scelto il palazzetto per la distribuzione che sarà fruibile da tutti i cittadini barlettani. La distribuzione avrà inizio a partire da giovedì pomeriggio e i nominativi delle persone che avranno diritto a venire qui a prendere gli alimenti saranno direttamente comunicati dall'ufficio del Segretario Sociale del Comune di Barletta. Quindi a loro verrà data una data e un orario preciso, quindi io invito la cittadinanza a non accalcarsi inutilmente, perché se non saranno interpellati dal Segretariato non potranno comunque usufruire dei viveri. E quindi come funziona? Il cittadino deve rivolgersi al Segretariato Sociale o sarà il Segretariato Sociale a contattare il cittadino? Il cittadino si farà censire dall'ufficio del Segretariato Sociale che a sua volta poi invieranno i nominativi delle persone che potranno avere accesso alla struttura. Quindi qui a Barletta, anziché buoni pasto, i cittadini riceveranno direttamente dei beni di prima necessità e questa è la differenza fondamentale? Sono due canali differenti, ci sono alcuni cittadini che riceveranno i buoni pasto e ci sono altri che invece potranno venire qui.